Ho organizzato una serie di lecture performance, una presentazione pubblica su degli argomenti scientifici, ma per un pubblico totalmente differente, in un contesto totalmente differente, con una forma totalmente differente. Immaginiamo che questa pianta rappresenti la storia della vita di Homo sapiens, cioè della nostra specie. La base corrisponde a circa 200.000 anni fa, cioè il valore che i paleantropologi ci dicono essere il momento in cui la specie sia differenziata. Noi oggi ci troviamo sulla punta. L'agricoltura è nata circa 10.000 anni fa e grosso modo corrisponde alla spiga, anche un po' di me in realtà. Ho organizzato quindi due performance, una con Vincenzo Guarnieri, che è un biochimico, quindi più sull'analisi e la storia dell'agricoltura, da come l'uomo si è evoluto, come è diventato coltivatore, allevatore, perché, quali sono state le cause, gli effetti, com'è stata l'evoluzione dell'uomo e della specie, in questo senso, fino alle ricerche più recenti sull'agricoltura. Allora, nell'isola di Sumatra, più o meno qua, dove oggi c'è un bellissimo lago, c'era il vulcano Toba. Questo vulcano a un certo punto ha eruttato. L'eruzione vulcanica ha generato ceneri e detriti che sono andati a oscurare l'atmosfera del pianeta, provocando una glaciazione. Nelle performance ho chiesto ai ragazzi di partecipare facendo delle piccole azioni. C'era una scaletta che è stata provata non tanto tempo, ma un paio di giorni. Se il passaggio veniva saltato, di conseguenza anche noi dovevamo essere pronti a improvvisare. Non ci sono stati grandi cambiamenti, però c'è stato qualche aggiustamento, un corso d'opera. Fino ad arrivare ai giorni nostri, con una tecnica che è stata messa a punto pochissimi anni fa, tre anni fa forse, che si chiama, ha una sigla che si chiama CRISPR-Cas9, che a parte questo è un meccanismo molecolare che è stato trovato nei batteri e che l'uomo può utilizzare per andare ad intervenire nel DNA in un punto molto preciso, con una precisione mai vista prima e con una potenza mai vista prima. Altro particolare di questa tecnica è che è facilissima, cioè è alla portata di tutti e con poco uno si compra un kit su internet e si fa la CRISPR a caso su delle cellule che vuole lui. Quindi vendono dei kit su internet che uno può utilizzare per fare selezione genetica. La prima volta che ho interagito con i ragazzi non ci si conosceva, ci siamo incontrati, se non ricordo male, proprio in GAM durante una delle prove della performance, però l'impatto è stato di immediata accoglienza. Con Alice ci siamo concentrate più sull'etica della scienza. Ha strutturato la performance su una figura chiave, che è stato un po' il fil rouge di tutto il discorso con questo Richard Feynman, fisico che ha partecipato alla costruzione della bomba atomica e che poi ha seguito, si è messo in discussione su quel momento. Per me è stato anche interessante lavorare con Alice perché lei sentiva molto anche il suo peso artistico in quel senso. Quindi ho deciso di iniziare la performance mostrando un montaggio video di alcuni materiali che lei aveva costruito intorno alla figura di Feynman. E l'ultima è una Richard Feynman quote, «Cosa posso costruire, non posso capire». Gli Stati Uniti sono già entrati in guerra. Viene chiamato nel 1942 da un fisico qualche anno più avanti di lui, Robert Wilson, a lavorare alla fissione dell'uranio. Sono gli anni in cui gli Stati Uniti hanno iniziato a fare ricerca sul nucleare in reazione al timore che la Germania nazista possa produrre un ordigno nucleare e quindi vincere la guerra. Sono stati avvertiti dai fisici o gli usciti scappati dalla Germania e arrivati negli Stati Uniti che avevano prodotto in Europa la fissione dell'atomo di questa possibilità. Quindi alla fine Roosevelt si convince dell'opportunità e della necessità di iniziare queste ricerche. Pensare che io potessi in qualche modo recitare qualcosa che avevo in mente non aveva nessun senso perché avrei perso spontaneità. Nello stesso tempo il modo che ho io di lavorare quando parlo in pubblico ha molto a che fare con l'improvvisazione. È sempre una tensione tra il punto a cui vuoi arrivare ma anche il senso di ripensarlo in quel momento lì, per quella persona lì che ti sta di fronte. Il pubblico prendeva appunti, quindi l'ho trovata una cosa positiva.